Noi siamo un territorio fragile che si sta sgretolando ed è davvero, ti piange il cuore nel vedere il territorio che se ne va. Sindaco, diciamo prima di tutto che la fortuna è stata che diverse ore prima avevate già cominciato il monitoraggio di quest'area perché già avevate avvertito che qualcosa non andava. Sì, nel dramma e nella tragedia è stata svendata un ulteriore disastro, cioè che per fortuna tramite segnalazione da parte dei cittadini era intervenuto l'ufficio tecnico, eravamo qui appunto sul pezzo per chiudere almeno l'accesso veicolare pedonale mentre appunto si stava chiudendo, ma diciamo che già il traffico era stato bloccato sia dai carabinieri, dai carabinieri forestali e quindi anche l'accesso chiuso, altrimenti se nessuno si fosse accorto del tutto, nel caso in cui fosse passato qualche veicolo in quel momento staremmo qui a raccontare una tragedia davvero immane. Chiederete ovviamente lo stato di calamità. Allora, noi abbiamo richiesto un sopralluogo urgente per capire come appunto affrontare questo appunto disastro che tra l'altro crea un problema alla zona, alla frazione di Santo Ianni, a Gallizzi, c'è un ristorante proprio qua sopra che è totalmente isolato, ci sono i collegamenti con Castelluccio da questo lato praticamente bloccati quindi bisogna tra l'altro fare un giro abbastanza lungo incontrando almeno altre due zone franose quindi questo è il quinto evento in due anni e per questo motivo io credo che ci sia bisogno di un'attenzione particolare non voglio fare il pessimista ma sono gli eventi che ce lo dicono c'è un territorio che si sta sgretolando noi abbiamo fatto un monitoraggio un anno fa generale prendendo tutti i punti complicati i punti in cui appunto c'è un alto rischio e penso che insieme alla regione dobbiamo impostare un tavolo per partire da questo io non voglio essere il pessimista di turno che pone il suo comune Vigianello come problema di questo mondo capisco che tutti, purtroppo soprattutto in Basilicata, è un problema un po' generale però davvero ci deve essere un'attenzione particolare perché è il quinto evento in due anni in questo momento ne abbiamo due attivi, uno in località Fiumara sulla provinciale SP34 questo sulla strada comunale Gallizzi-Santoianni un altro caso 500 metri più avanti l'anno scorso dove è stato messo in sicurezza bisogna a mio avviso attenzionare quello che è una zona a forte rischio frana quindi penso che ci sia bisogno di un urgente tavolo appunto per monitorare tutte queste situazioni il titolare di un supermercato, spieghiamo bene esatto sì, dell'attività dell'S Mercato, SNC di Sessore Vincenzo e Company lei è un po' si è fatto adesso portavoce anche di altre attività che ci sono un panificio, un altro supermercato ciò è un altro negozio di alimentari su e siamo tagliati completamente fuori non è possibile così osi che si interviene subito se no noi siamo costretti a chiudere l'attività insomma questo è il problema perché non ci sono alternative tra l'altro la strada alternativa mi diceva il sindaco è una decina di chilometri in più ma è impossibile da percorrere con i mezzi pesanti sì, è parte dei mezzi pesanti che se deve arrivare un camion non può arrivare più ma pure con le macchine, le vatture ci vogliono solo fuoristrada perché è una strada così disastrata che non è possibile circolare insomma, siamo proprio fuori dal mondo quindi si chiedono interventi urgenti naturalmente? interventi urgenti e se è possibile porre qualche risarcimento d'anni se no noi siamo costretti a chiudere l'attività insomma questo è il problema perché non si può andare avanti così non abbiamo niente altro da aggiungere che dobbiamo aggiungere non è la prima volta che si verificano queste cose quindi noi siamo tagliati fuori completamente mi diceva che proprio l'anno scorso dopo la tragedia del ponte di Genova questa è stata proprio una delle aree interessate dai monitoraggi sì, noi abbiamo monitorato tutti i ponti e tutte le situazioni appunto a rischio frana che sono tantissime perché se chiedo alla telecamera di inquadrare c'è un ponte anche se dalla strada non si vedeva inquadriamo anche il ponte sì, noi abbiamo monitorato tutto il territorio e anche questo era appunto stato soggetto di sopralluogo tra l'altro il 22 agosto 2018 ed inviato poi al Ministero, alla Regione, a tutti capisco che giustamente le risorse per tutte le situazioni sicuramente non ci sono però penso che bisogna fare un ragionamento proprio diverso ma non solo in Regione Basilicata ma proprio a livello nazionale credo che la più grande opera che si possa fare di questi tempi sia la manutenzione del territorio non dobbiamo pensare a chissà quali opere ma a mantenere quello che abbiamo perché la messa in sicurezza, la manutenzione è purtroppo ormai scarsissima sicuramente per mancanza di risorse umane per mancanza di risorse economiche quindi penso che dallo Stato generale ci sia bisogno di un intervento forte altrimenti, io lo dicevo, il giorno della caduta del ponte di Genova ci saranno tantissimi altri ponte di Genova in tutta Italia perché su un ponte che ha più di 50 anni e che ha anche retto tutto sommato ma tutta la parte di sotto se n'è venuta quindi come questo ci saranno purtroppo tanti altri casi io non voglio fare l'uccello del malagurio ma purtroppo questa è la situazione dobbiamo essere realisti e dobbiamo trovare una strategia tutti insieme spesso i comuni, i sindaci sono abbandonati a se stessi queste sono situazioni che poi la responsabilità sul territorio è tutta nostra e noi ce le assumiamo tutte assolutamente non ci tiriamo assolutamente indietro però penso che ci sia bisogno di un piano davvero forte concreto, di un tavolo tecnico perché altrimenti qui ogni mese ci sarà un evento franoso ci saranno per fortuna qui tutto sommato non è successo nulla a persone perché se c'era una macchina, un veicolo in quel momento di passaggio qui staremo parlando di una tragedia e noi nell'ultimo anno si parla più di tragedie che di belle appunto di belle, di bei risultati veniamo da poi ci sono quelli sicuramente tutti naturali qui probabilmente c'è stato anche delle cause che io non so, che però bisogna sicuramente affrontare capire anche insieme alle regioni le vere cause però c'è bisogno di un'attenzione maggiore quindi quello che chiederò alla regione sarà appunto un tavolo che non sia però solo a Vigianello ma anche per tutte le altre comunità perché davvero c'è bisogno di una strategia nazionale che vada sulla messa in sicurezza e sulla manutenzione che si capisca i punti complicati se qui siamo tutte in zona R3, R2 e anche R4 penso che queste siano le prime zone in cui bisogna intervenire abbiamo pratiche del dissesto bloccate sulla piattaforma Rentes da anni soldi che non spendiamo e poi abbiamo il territorio che cade un po' di controsenso io spero che il governo regionale che appunto si sta si è ormai insediato e quindi sta arrivando diciamo alla operatività totale ponga l'attenzione su queste situazioni ponga l'attenzione su queste situazioni perché davvero c'è un'urgenza incredibile bisogna anche rasserenare i cittadini che altrimenti qui non si vive più tranquilli perché se in ogni piccolo pezzo del territorio c'è una frana, uno smottamento, un pericolo anche i cittadini non vivono più tranquilli parliamo tanto di sicurezza forse dato che è un tema caldo a livello nazionale forse la più grande sicurezza sarebbe quella del territorio e probabilmente evitare sciocche e paure grazie a tutti grazie a tutti Grazie.